Amici ed amiche di Super Tennis, bentornati sul canale, video veramente veloce solo per dirvi che ho visto la partita tra Zizipas e Luganardi. Luganardi ricordiamo classe 2003, quindi 19enne, Zizipas numero 6 del mondo, quasi numero 5, classe 98, finalista Slam, ha vinto Master 1000. Eppure Luganardi non ha concesso neanche una palla break, ha perso solamente in due tie break e ha avuto anche due palle break per strappare il servizio a Zizipas. E soprattutto, purtroppo, nel secondo tie break, proprio il primo punto pare si sia fatto male. Speriamo che ciò non incida per il torneo di Firenze, al quale Luca potrebbe, se gioca così, in questa maniera, superare sicuramente dei turni e prendere punti importanti per poter accedere poi, si spera, al torneo, quindi alle ATP Next Gen Finals di Milano, perché questo Luganardi, anche alle Next Gen, potrebbe darci grosse soddisfazioni. Ha giocato veramente una partita straordinaria, io non l'ho visto tantissime volte giocare, e per di più, quei video che riesco a trovare su YouTube, o comunque quando l'ho potuto seguire, diciamo, live, sono di bassa qualità. Qui, oggi ho potuto seguirlo su Super Tennis, col commento di Lorenzo Fares. Anche Lorenzo Fares concorda con me, da come l'ho sentito commentare, che questo è un ragazzo predestinato ad andare ad alti livelli. Se gioca così, sicuramente, ragazzi. Ma soprattutto Zizipas, a parte giocarsela sullo strapotere fisico, quindi sul fatto che c'è servizio più forte, dritto più forte, ma a livello di varietà supera anche Zizipas. L'ha stravolto di palle corte, contropiedi, attacchi a rete, delle volee, stop volee incredibili. Mi viene in mente quella del primo set in diagonale, che ha toccato la linea. Ma veramente, poi questo ragazzo ha una tranquillità anche nei momenti di difficoltà. Continua a giocare, non sbuffa, non getta racchetta a terra, insomma, gioca, gioca, pensa a giocare. Soprattutto poi, come dicevo nel vecchio video dove analizzavo un po' il gioco di Nardi, andatelo a rivedere, se non vi ricordate, e qui saluto Tommaso C, grande Tommaso C. Andatelo a rivedere, insomma, lui si appoggia benissimo sulla palla. Infatti, più Zizipas tirava forte, più lui riusciva a rispondergli forte, perché proprio il fatto che lui si appoggia molto bene sulla palla, fa sì che lui prenda forza dalla forza che gli arriva. Cioè, più gli tiri forte, più lui risponde forte. E poi, veramente, è un geometra sul campo. Ha disegnato il campo con i lungolini, con gli incrociati stretti, veramente... Ecco, secondo me, per esempio, il passante può migliorarlo, eh. Non ha giocato tanto bene i passanti, quindi i passanti, soprattutto sul lato del rovescio, anche i lob, può migliorare. Ecco, il fatto che, sto parlando di un ragazzo che ha messo in difficoltà il numero 6 del mondo, e ha tanti margini di miglioramento, a partire dal fisco, a partire dal fatto che può tirare sicuramente più forte di così, il servizio, già va bene, ma può migliorarlo. Ciò ci fa proprio prospettare un ottimo giocatore di tennis, anche di livello molto alto. Poi, come dico sempre, dipenderà dalla crescita che farà, dai miglioramenti che farà, dal tipo di percorso. Però i presupposti, come detto già in precedenza, per i vari sinner, per i vari rune, per i vari musetti, i presupposti ci sono, insomma, il ragazzo c'è, il talento c'è. Poi dipenderà il tipo di crescita, se diventerà un per, diventerà un kirjos, diventerà un federer, diventerà un nadal, diventerà un vravinka, diventerà, proprio diventa qualsiasi cosa. L'importante è che non sia una promessa mancata, ecco, questo è molto importante, perché la promessa e le premesse ci sono, ragazzi. Veramente ha giocato una partita straordinaria, anche proprio bella da vedere, mi sono divertito a guardarlo. Bei punti, non è quella classica partita, diciamo, fra super tiratori, tirano le cartelle, quindi tu vedi solo la potenza, cioè qui c'è stato proprio il gioco. Cioè il ragazzo gioca a tennis, questo è il bello di questo ragazzo. Ha una varietà di colpi incredibili, veramente le palle corte, cioè Zizi passa a un certo punto, sembrava non ne potesse più, uno che varia il gioco peggio di lui. Purtroppo, ecco, da questo punto di vista, quest'anno noi italiani siamo sfortunati, cioè sempre, c'è sempre un giocatore che si deve infortunare, guarda. Speriamo non sia nulla di grave, perché a Firenze io la voglio vedere, e vi consiglio di vederlo anche a voi, Luca Nardi, speriamo possa giocare tranquillamente. E quindi altro campioncino italiano che può crescere, dai. Speriamo bene, e con questo video vi saluto. Purtroppo devo farlo breve, poi se volete farò un altro video dove analizzeremo meglio Luca Nardi, eccetera, eccetera. Ora vi devo salutare, saluto tutti i miei followers. Mi raccomando, lo scorso video è già andato meglio degli altri, ma iscrivetevi, lasciate like, commentate. Dai, dai, forza, Passione Tennis. Ciao ragazzi.